Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. È il momento di fare le prime impressioni di Dragon's Dogma 2. Dopo ben 30 ore di gioco ho deciso di fare questa prima impressione. Credo di essere circa tre quarti della storia principale più un bel po' di esplorazione per tutta l'intera mappa. Ho esplorato praticamente tutte le macro aree che sono presenti nel gioco e quindi diciamo che è una bella idea del gioco, sono circa le low 40. Ho quasi sbloccato tutte le classi, me ne mancano solamente due, l'archer mago e l'eroe leggendario. Io ho anche quindi testato un pochettino vari gameplay un po' diversi tra quelli corpo a corpo, ranged e anche un po' misti. Quindi siamo pronti, possiamo finalmente parlare del gioco veramente. In questo video non parlerò delle microtransazioni perché ne abbiamo parlato già abbastanza su questo canale e tra l'altro è tipo l'argomento cardine degli ultimi tre giorni su internet. Parliamo solamente del gioco. Comincerò con le cose positive, poi vi dirò una cosa diciamo così, più o meno, me. Mi è piaciuta sì un pochettino ma neanche troppo e poi chiuderemo con i lati negativi perché ce ne sono abbastanza tutto sommato. Tra prestazioni, lato tecnico e anche delle scelte di design discutibili. Io ho giocato il gioco su pc, solamente su pc e anche su un direi buon pc con una buona cpu, una 5800x e una 4070 super. Quindi adesso che sapete tutte le cose che dovete sapere per l'intro cominciamo con i pro. Dragon's Dogma 2, quindi un action rpg. Un action rpg con delle velleità un po' della vecchia scuola, quindi un gioco che vuole farvi immergere in questo mondo fantasy, dove voi siete questo Arisen, questo prescelto, che però insomma ha qualche problema perché all'inizio della storia c'è un usurpatore e quindi insomma tutta la trama si sviluppa sul capire cosa poter fare per riprendersi il nostro giusto posto. Noi abbiamo una connessione particolare con il drago, il drago di Dragon's Dogma, il drago che ci ha tolto il cuore e infatti noi dobbiamo anche riprenderci questa piccola cosa abbastanza utile tipo il nostro cuore. Ecco Dragon's Dogma 2 è molto simile in realtà a Dragon's Dogma originale in molte sue caratteristiche, ma i suoi lati più positivi secondo me sono proprio il core del combattimento, quindi il sistema di combattimento, che per certi versi è quasi unico nel panorama dei giochi di ruolo moderni e un'altra cosa estremamente importante e ben fatta a mio avviso è l'esplorazione che si può fare in questo universo fantasy, in questo mondo. Quindi lasciando perdere un pochettino la trama e le quest che sono diciamo nella parte un po' meh a mio avviso, il piattoforto è proprio il sistema di combattimento, come si combatte e l'esplorazione. Partiamo subito da dire che dà un'enfasi più al party, non singolarmente al vostro eroe. Quindi per quanto voi possiate ovviamente creare un vostro personaggio, scegliere una classe, all'inizio ne avete quattro di base ma poi potrete ne sbloccare altre sei facendo delle quest specifiche e potrete sempre cambiare classe quando vorrete, una volta che le avete disponibili e le vostre statistiche si adatteranno alla classe. Dovrete solo aggiustare un attimino gli oggetti, in particolare l'arma e a volte anche l'armatura, però alcune classi diciamo la condividono, la stessa tipologia di armatura. Ma appunto il gioco non è basato semplicemente su di voi, il vostro eroe, ma è tutto il party. Voi in realtà create anche un altro personaggio che è una vostra sorta di partner, la vostra pedina partner. In questo gioco i NPC che fanno parte del vostro gruppo, appunto si chiamano pedine. Questa pedina companion la potete editare in maniera totale, ma potete anche swappargli la classe, anche se la pedina non possono usare tutte le classi ma solamente 6, ma insomma avete una enorme libertà su in particolare la vostra pedina principale. Pedina principale che poi andrà a inserirsi nel sistema delle pedine che tutti poi usano e poi le persone usano le pedine degli altri, che poi in realtà saranno le pedine secondarie degli altri giocatori. A questo punto avrete un party da 4, dovrete quindi scegliere una certa composizione ideale e andrete all'avventura. E appunto è importante il party perché è un gioco dove si combatte di gruppo in maniera molto vehemente. C'è un'enfasi molto anche sull'intelligenza artificiale che nella maggior parte dei casi è abbastanza precisa e accurata, ogni tanto fa delle cacate però insomma in EDI massima è sopra le medie rispetto a l'IA che hanno di solito gli NPC nei videogiochi. Questo sia da parte del vostro party che degli nemici, che hanno tutto un certo numero di interazioni, di animazioni e di azioni, a seconda della tipologia del nemico, se un orco, se un lupo, se un goblin o se un drago, che comunque rendono tutto il combattimento a mio avviso molto molto divertente. Ragazzi ci ho giocato praticamente 30 ore in 4 giorni, cioè è un gioco additivo almeno, per me lo è stato a livello di combattimento, se non fosse stato così divertente ci avrei giocato sicuramente meno ore. Quindi sì noi muoviamo il nostro eroe, giochiamo la nostra classe che potrebbe essere un mago, un ladro, un guerriero o quello che volete voi appunto, ce ne sono svariate, però l'enfasi è su questo combattimento di gruppo, dove ognuno fa le sue cose e si crea sempre un caos incredibile. A livello di animazione il gioco è un po' particolare comunque, perché a volte alcune animazioni sembrano molto lente, molto macchinose, però dipende anche molto dalla classe che utilizzate. Io ho usato molto il ladro, il rogue, ed è super agile, non ho avuto quasi nessun problema a muovermi, mi sono trovato molto bene, però quando ho cambiato classe, e ho provato che ne sono un arciere o un mago, ho anche solo il guerriero a due mani che è molto più lento come playstyle, cioè appunto a queste armi a due mani estremamente lente che caricano i colpi tantissimo, e lì si nota una differenza abissale, cioè sempre proprio giocare un altro gioco. E in generale c'è una certa inerzia ogni volta che anche solo vi muovete, quindi è un po' tutto che si muove un po' nella melassa, nella maggior parte delle classi, forse tranne il rogue. Infatti se siete abituati nei GDR moderni action, ad avere sempre, che ne so, il parry o la schivata sempre a disposizione, ecco in questo gioco praticamente la schivata attiva ce l'avete solamente con il ladro, o il parry attivo praticamente solo con il guerriero spada e scudo, anche se anche qualche altra classe ha un'abilità diciamo difensiva che può triggerare un controattacco. Per esempio il ladro oppure ce l'ha. Diciamo che il sistema di combattimento va un po' compreso e abbracciato, anche perché non essendoci un target lock non potete appunto lockare un nemico e poi quindi averlo sempre in vista, ma dovete giocare sempre col target sloccato. Questo vuol dire che dovete giocare anche molto con la telecamera, dovete avere una certa manualità sempre a girare la telecamera molto spesso. E qui potremmo anche andare verso un difetto che la telecamera è un pochino troppo vicina e impazzisce molto facilmente, quindi ci sono situazioni un po' strane. C'è anche da dire che però la difficoltà del gioco non è particolarmente tallata verso l'alto, quindi è difficile che voi diciamo perdiate o moriate per colpa della telecamera, cioè non siamo ai livelli di souls, no? La telecamera impazzisce, prendete due botte e morite. Non è così in questo gioco, però diciamo che se la migliorassero sarebbe meglio. Il punto forte in realtà di questo combattimento è che c'è sempre un gran casino, diciamola così. E possono succedere anche cose molto randomiche, perché tutti gli eventi non sono particolarmente scriptati. Quindi mentre voi combattete con dei goblin potrebbe arrivare un grifone dall'altro e inserirsi, o arrivare un troll dall'altro e inserirsi pure e fare una sorta di gangbang allucinante. E se poi ci sono un paio di maghi di mezzo, cominciano a partire effetti particellari, esplosioni, fulmini, vortici e chi più ne ha più ne mette. Insomma, un bordello. È appunto peculiare. Potrebbe piacere molto, potrebbe dare noia molto a qualche altro giocatore. Un'altra poi particolarità è che si può aggrapparsi e scalare i nemici colossali. Quindi ci sono i nemici di taglia piccola o media, che insomma sono più o meno grandi come noi e non fanno niente di trascendentale, ma poi arrivano i mostri diciamo più colossali, come i ciclopi, i troll, i golem, fino ovviamente arrivare a draghi. In quel momento il gioco dà il meglio di sé a livello di combat system, perché è aggrapparsi, scalare i nemici più colossali, pugnalarli nei punti critici, tipo l'occhio per il ciclope o il cuore del drago nel drago. È una sfida interessante e rende ancora più epico, se possibile, il combattimento. Inoltre il gioco è molto fisico, è molto importante la fisica, molti oggetti possono essere anche lanciati, esistono delle vulnerabilità e delle resistenze agli elementi naturali, quindi alle magie, oppure ai buff fuoco, tuono, ghiaccio, cose di questo tipo. Insomma è un combattimento particolare, molto viscerale, che a me è piaciuto particolarmente. E tutto questo si inserisce in un sistema in cui l'esplorazione è altrettanto importante, perché il mondo è molto grande ed è tagliato ed è stato disegnato a livello di mappa in un certo modo per il quale voi, soprattutto quando andate in posti più in alto, avete un'ottima visione di quella che è la conformazione della mappa e i punti di interesse sono molto ben chiari. È un gioco che non vi vuole dare poi troppi aiuti, anzi non vi vuole tenere la mano, anche se in realtà tutto sommato ci sono delle meccaniche per il quale potete facilitarvi la vita. Una fra tutte sono proprio le pedine, perché le pedine apprendono quello che imparano mentre sono in giro con gli altri giocatori e quindi quando voi prendete le pedine degli altri giocatori possibilmente sanno le quest che voi state facendo. Potete anche ricercarle proprio con questo parametro quando siete nella faglia, il posto in cui dove potete scegliere le pedine. Quindi praticamente queste pedine, oltre a essere abbastanza intelligenti quando combattono, vi danno anche dei consigli attivi sulle quest attive che avete o anche proprio per esempio, quando si va per esempio in una parte dove si ha una bella vista, possono anche loro stesse notare se c'è una cassa, se c'è un dungeon, se c'è un punto di interesse e ve lo indicano, parlano proprio, ve lo dicono. E se accettate voi potete anche farvi guidare da loro stesse. Quindi sì, da un lato è poco guidato il gioco, ci sono pochi indicatori in generale e sta al giocatore stare lì a esplorare ogni piccolo anfratto. Tra parentesi, mediamente siete abbastanza premiati, se siete proprio dei Sherlock Holmes delle mappe, perché spesso e volentieri nei punti più reconditi magari ci sono proprio delle casse un pochino con del loot migliore. E c'è anche un sistema diciamo di collezionabili che è fatto apposta di monete rare, fatto apposta proprio per premiare chi cerca nei posti più reconditi. Ma come detto potete proprio farvi guidare spesso e volentieri proprio dalle pedine e quindi proprio andare in pilota automatico. Quindi in realtà se lo usate in maniera molto attiva questo sistema delle pedine e della guida è abbastanza guidato il gioco in realtà. Ma in generale comunque come è stata costruita la mappa e il senso di esplorazione che dà a me è piaciuto. In particolare poi quando si cambia dal giorno alla notte, la notte è molto più pericolosa, ci sono nemici anche diversi, più forti. Inoltre c'è tantissimo buio, cioè non si vede proprio un cazzo. E quindi si va letteralmente avanti con le torce, le lanterne, quindi c'è tutta questa immedesimazione secondo me molto interessante. E anche nelle caverne più buie sono veramente, cioè i dungeon sono veramente dungeon, danno quella sensazione di essere in una grotta sperduta e pericolosa. Quindi tutta la parte del combattimento secondo me è approvata, anche se proprio deve piacere. Potrebbe però non scattare la scintilla e farvi cagare. A quel punto sarà un problema, perché in questo gioco si combatte ogni 5 secondi quando siete nell'open world. E anche il lato dell'esplorazione mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto anche come hanno gestito la parte delle pedine, quindi questi NPC, sia perché comunque è un piacere averli in parte, perché comunque ci sono tante interazioni sia tra di loro che con voi che con i posti che vedono, i consigli che danno, sia proprio perché c'è questa cosa che noi prendiamo i personaggi degli altri. E essendo che sono personaggi creati come secondi PG, diciamo come companion degli altri giocatori, sono fatti con una certa cura. Alcuni magari sono un pochino mostruosi, ma in realtà molti li hanno fatti con una certa cura. E hanno una certa cura anche il loro equipaggiamento, perché giustamente è il personaggio che loro stanno usando nella loro partita. Quindi è molto interessante il sistema delle pedine, perché andrete a cambiarle spesso e questo varierà anche ovviamente il vostro gameplay, perché cambierà un pochino anche la conformazione del parco. Se mi chiedete qual è la mia classe preferita fino a questo momento, per me è sicuramente il ladro. Perché è il più agile di tutti, è quello che scala più velocemente i nemici, è quello che ha la schivata libera, ed è anche quello che probabilmente fa, non dico più danni di tutti, però insomma fa abbastanza tanti danni. Soprattutto punisce tantissimo la possibilità di immobilizzare, buttare a terra i nemici e poi infliggere dei colpi critici. Fa veramente un botto di danni. E mi piace comunque muovermi molto velocemente. Poi chiaramente ognuno avrà il suo playstyle preferito e penso che troverà comunque la classe adatta. Detto ciò, passiamo alla parte un po' me. La parte un po' me è, secondo me, la storia delle quest. Ok? Perché tutta la storia che viene raccontata... vabbè. E... così. Non mi è apparsa particolarmente interessante, diciamola così. E anche tutte le quest che vengono proposte, a parte qualcuna che è un pochino più illuminata, più smart, c'ha qualche anche bivio e qualche colpo di genio, in realtà la maggior parte delle quest sono delle fetch quest. Cioè vai lì, prendi oggetto, porta oggetto, parla col personaggio, vai a destra e a sinistra. Tutto questo gravato da uno dei poi problemi che andremo a vedere nei problemi, che è il fatto che ci sono pochi, molto pochi viaggi rapidi, pochi modi per muoversi in maniera veloce, soprattutto nelle prime ore di gioco. Più si va avanti, più poi è semplice muoversi, però rimane sempre comunque abbastanza costoso. E per altre scelte di design, che andiamo a vedere dopo, che riguardano comunque sempre il movimento. Quindi alla fine fare queste fetch quest, dove a un certo punto siete in un punto della mappa e vi dicono che per farlo dovete andare tipo dall'altra parte della mappa, vi mettete le mani un po' nei capelli. Per quanto poi il premio delle quest, almeno rispetto a XP e soldi o oggetti, di solito è anche abbastanza interessante e buono, quindi siete incentivati a farle queste quest. Ma dato che ci si muove, diciamo, con una certa difficoltà, in giro per la mappa, per lunghe distanze, viene un po' pesante fare queste fetch quest, che poi alla fine non sono tutta questa genialata di scrittura e narrazione. Diciamo che è proprio un gioco che vi deve piacere, dal punto di vista dell'immersione, essere dentro il mondo, combattere, vi deve piacere molto, ed esplorare. Se pensate che questo gioco sia interessante per le scelte narrative e la narrazione, o quant'altro, ecco, no. Quindi chiusa velocemente questa piccola parentesi del meh, passiamo ai problemi. Perché questo gioco, secondo me, ha un bel po' di problemi. Il problema più evidente è quello tecnico, ok? Proprio a livello di prestazioni e di motore di gioco e di resa anche grafica del gioco. Perché da un certo punto di vista è anche ispirato a livello estetico. E anche alcuni scorci, in alcuni punti particolari, alcune vista, diciamo, sono molto fighe. Ma ragazzi, il software, proprio in maniera molto rude, è veramente pietoso. È pietoso sulle console perché riesce con difficoltà a fare 30 fps, ma è ancora più pietoso, se vogliamo, su PC. Anche con buon PC, anche con ottimi PC, non si riescono a sfruttare le risorse. Banalmente è malissimo ottimizzato. Stiamo parlando di un motore grafico che fa penare la maggior parte delle configurazioni, in particolare sulla parte della CPU, che non sfrutta appunto le risorse né della parte GPU né CPU, e che nella capitale degli umani, che è la prima capitale che andate a beccare in realtà nel gioco dopo un'ora e mezza di gioco, due forse, distrugge letteralmente il frame rate del gioco. Perché, non so, loro hanno detto che la CPU deve calcolare tutte le routine, cazzi e mazzi del gioco, non lo so, la questione tecnica non è mia competenza, però ci sono già un sacco di video tecnici che spiegano esattamente il perché e il per come. Il fatto sta che comunque in città si soffre tantissimo. E si soffre tantissimo anche con appunto schede video di altissimo livello, perché semplicemente non vengono sfruttate in realtà. Considerate che per esempio la frame generation, che è una tecnologia mostruosamente potente di Nvidia, che però è presente solo nelle serie 4000, quindi le ultime serie di Nvidia, teoricamente c'è nel gioco ma praticamente non c'è, cioè non c'è l'opzione. La potete attivare tramite una mod, cosa che ho fatto io, e lì letteralmente, letteralmente, cioè letteralmente, raddoppiate i frame rate. Cioè si passa da 40 a 80, da 60 a 120, dico in città. Perché poi fuori dalla città tutto sommato le prestazioni si barcamenano, sempre ovviamente se avete una buona CPU e comunque una decente GPU, ma in generale rispetto alla resa poi grafica del gioco, estetica anche a livello proprio di texture, illuminazione e tutto quanto, è un cesso a pedali sto software, diciamocelo. E molti stanno avendo molti problemi proprio per questi problemi tecnici. Loro già hanno detto che stanno cercando di metterci mano, fare qualcosa, qualche cambiamento, però non lo so quanto si potrà migliorare la situazione. Ma non ci sono solo problemi tecnici, ci sono anche delle scelte di design molto opinabili per usare un eufemismo, come quello di avere un singolo salvataggio che non può essere cancellato e quindi non si può fare neanche un secondo personaggio, ma non si può neanche ricominciare la partita se non andando a cancellare manualmente i file sia sulle console che anche su PC. Una scelta folle che non ha alcun senso, che è stata criticata praticamente all'unisono dal 100% dei giocatori, tant'è che in effetti questa cosa già hanno detto che la cambieranno. Quindi sarà possibile avere un new game con un secondo personaggio su un salvataggio a parte, ma rimarrà il fatto che il vostro salvataggio della vostra partita sarà comunque unico. In tutto questo c'è anche stata un'altra grossa critica sul fatto che quando voi ricaricate il salvataggio in realtà vi dà due opzioni. L'ultimo salvataggio è l'ultimo checkpoint. Il problema è che l'ultimo salvataggio è effettivamente l'ultimo salvataggio, il gioco tra l'altro salva molto spesso da solo anche. L'ultimo checkpoint invece è l'ultima volta che avete dormito in una locanda. In maniera molto specifica questo vuol dire. Questa cosa ha creato una marea di problemi a una marea di persone, perché anche solo per distrazione o per ovviamente ignoranza, uno non lo sa, se ne accorge dopo e la paga cara, se voi premete su ricarica dall'ultimo checkpoint e magari l'ultima volta che vi siete riposati in quella locanda era tipo tre ore prima, voi vi siete bruciati tre ore di gioco, perché poi appena lui carica dalla locanda immediatamente fa l'autosalvataggio e quindi quello diventa l'ultimo salvataggio. Questa scelta di avere questa opzione secondo me, non lo so perché gli è venuto in mente, sembra quasi un dispetto che vogliono fare al giocatore o una svista incredibile. Anche perché non c'è nessun warning sul fatto che uno scelga checkpoint e magari quel checkpoint è quattro ore prima. Il gioco magari lo sa che l'ultimo salvataggio è cinque secondi fa e il checkpoint è cinque ore fa, magari dammi un avvertimento, dimmi sei sicuro che vuoi tornare cinque ore fa? Non c'è niente di tutto questo, quindi questa cosa è molto problematica e critica. Io penso che la cambieranno in qualche modo o la renderanno più chiaro, metteranno un warning, ma comunque nel dubbio voi caricate sempre l'ultimo salvataggio, sempre l'ultimo salvataggio, non vi sbagliate, se no so cazzi. Ma poi ci sono altre scelte di design, questa volta parliamo tutto di queste scelte di design che riguardano gli spostamenti sulla mappa. Quindi la presenza di pochi fast travel. Ci sono due modi per spostarsi velocemente sulla mappa che non siano camminare. Non ci sono mount nel gioco, ok? Bisogna camminare tutto il tempo. La prima è quella di prendere dei carretti che però hanno delle linee fisse e sono molto poche. Penso siano tipo tre o quattro al massimo queste linee in cui vi potete muovere con questi carretti. Il carretto parte da una città, tipicamente da una capitale, arriva in un'altra piccola città oppure alla frontiera, perché il mondo diciamo è un unico mondo però è diviso in due grandi biomi. E poi da questa frontiera all'altra capitale quasi basta. Quindi al massimo vi potete fare questi viaggi diciamo rapidi, che tagliano la mappa e vanno in questi tre quattro punti diversi, senza poter scegliere dove fermarvi in mezzo. Il problema è che non sono neanche sicuri, perché appunto è un viaggio in carretto, voi ovviamente premerete il tasto per dormire e non farlo fisicamente a due all'ora. Il problema è che a volte venite assaltati a metà strada e se siete sfortunati venite assaltati magari da nemici giganti che distruggono il carretto e quindi comunque anche se avete pagato il viaggio rapido vi ritrovate comunque in mezzo alla mappa anche se voi volete farlo velocemente. L'altro metodo che è il vero e proprio fast travel è quello dove si usano delle pietre di teleport, ma dove si deve usare anche una runa per utilizzare questo teleport. Ora, le pietre di teleport dopo i 30 ore di gioco che ci sono fisse nel gioco sono due e la seconda non è neanche nella seconda capitale del secondo bioma. Queste pietre in teoria voi le trovate nel gioco e voi le potete piazzare dove volete voi e poi da lì appunto con un altro consumabile, che è molto raro pure quello, potete usare questo teletrasporto. Ora, io in 30 ore ho trovato due pietre di teletrasporto. Una che diciamo tutti troveranno perché fa parte della main quest, la seconda che si scambia con un altro materiale raro che non vi sto qui a dire. Quindi io dopo 30 ore potrei avere quattro punti nella mappa, due fissi e due dove dico io, dove teleportare. E tutto questo al costo di un consumabile che comunque bisogna comprare nei vendori in giro o trovare in giro per la mappa nelle casse, che comunque è molto raro e anche relativamente costoso comprato dai vendori. Quindi comunque dovete ogni volta ponderare se è il caso di farsela a piedi, prendere sto carretto oppure di usare questi costosissimi teleport. Ora tutto questo è stato fatto by design per, diciamo, incentivarvi o meglio dire costringervi a esplorare il mondo, quindi a effettivamente andare a piedi da un punto all'altro perché comunque nel mondo ci sono molte cose da scovare, ci sono molti nemici da combattere, quindi siete estremamente incentivati a farlo, quasi costretti. Ora da questo punto di vista è opinabile, secondo me potevano farla un pochino più tranquilla senza far perdere così tanto tempo i giocatori. Il problema è che c'è un'altra cosa nel design che non mi è piaciuta, è il fatto che quando si corre, si sprinta, si consuma la stamina. Lo si fa ovviamente quando si combatte, ma lo si fa anche quando si è fuori dal combattimento. Quindi comunque correre anche per le strade principali, per sbrigarsi il prima possibile, vi fa consumare stamina. Il problema qual è? Che consumate stamina in base al vostro peso e in questo gioco ci sono un sacco di cose pesanti. Il peso trasportabile è decisamente uno dei più bassi che abbiamo mai visto in un videogioco, cioè siete sovrappeso veramente subito. Quindi insomma ci sono molti sistemi che giocano contro di voi per, tra virgolette, farvi perdere tempo, ma in realtà farvi rallentare appunto. E secondo me sono un po' troppi, cioè ci poteva starne uno, ce ne potrebbero stare due, ma averne tre, quattro, tutti che cercano di limitare i vostri movimenti in ogni modo possibile e immaginabile è un po' too much. Anche perché senza un vero motivo quando siete dentro le città, sia quelle più grandi che quelle più piccole, potete sprintare quanto volete. La stamina è infinita. Però appena siete fuori si consuma, anche fuori dal combattimento. Insomma non mi è piaciuto tantissimo, anche se già lo sapevo, comunque giocandolo non mi è piaciuto tantissimo, perché fondamentalmente annaquano queste cose l'esperienza. Cioè palesemente le cose che fareste in un tot di ore perdete almeno il 30-40 per cento del tempo in più a farle perché il sistema è così. Cioè banalmente se ci fosse la stamina infinita fuori combattimento, ma si guadagnerebbe un sacco di tempo in più a far tutto. O se si potesse fare banalmente un carretto viaggio col cento per cento di possibilità, magari che ne so pagando di più, l'assicurazione, una stronzata, che non ci sono combattimenti in mezzo, si guadagnerebbe un sacco di tempo in più, perché letteralmente si rischia di essere interrotti a metà strada, si rompe il carretto e voi ve la dovete fare a piedi voi. Quindi questo eccesso di pochi quality of life che ci sono tutti insieme, quindi stamina consumata, pochi fast travel, peso ingombrantissimo di ogni cosa che vi fa andare più lenti e vi fa consumare più stamina, tutto insieme, insomma la vedo appunto come un po' uno sgarro diciamo al vostro tempo. Per quanto il gioco voglia effettivamente farvi fare questa esperienza un po' quasi, ne so, meditativa, simulativa del mondo fantasy, dove dovete fare le cose con calma e vivere il mondo. Secondo me le persone potevano farlo e viverselo tranquillamente anche senza essere forzate così. Cioè per inciso io ho perso una marea di tempo a esplorare, anche se magari dopo tante ore ho un bel po' di pietre, le potrei usare, io comunque mi piace andare a scovarmi le cose che non ho diciamo trovato, esplorato, a beccare una caverna in più o un dungeon incredibile enorme in più che non avevo beccato prima. Però nel momento in cui voglio andare veloce, perché che ne so, voglio finire la luce delle quest, mi dà fastidio essere così tanto limitato nel movimento. In generale tutte queste scelte di design non mi sono piaciute. E insomma ragazzi, basta! Direi che ho parlato un sacco, vi ho dato tutte le mie prime impressioni di questo Dragon's Dogma 2 e quindi alla fine della fiera cosa ne penso? Sempre per queste mie prime impressioni, giusto? Devo ancora finire il gioco, devo ancora arrivare a livelli alti, vedere ancora i boss più fighi, ancora ho ammazzato solo un paio di draghi e un paio di combattimenti super epici, ancora devo vedere le cose probabilmente più fighe. La cosa che posso dire è che certamente a mio avviso non è il capolavoro che poteva essere, poteva sembrare che stesse arrivando. Sicuramente è un buon gioco per chi può apprezzare questo sistema di combattimento e questo tipo di esplorazione, ma se non l'apprezzate questo gioco non è manco buono, è inferiore la vostra valutazione se non vi piacciono queste due cose in particolare. Ma poi ha dei grossi problemi, alcuni oggettivi proprio, stiamo parlando di questioni di lato tecnico, ho scelto i design abberranti come quelli del salvataggio, possibili errori, perdita di ore di gioco o non possibilità di fare secondo i personaggi, anche se verrà fixata a breve. Altre scelte di design diciamo opinabili, un po' troppo restrittive che non mi sono piaciute. In quattro giorni sempre 30 ore ho fatto e quindi comunque diciamo che il gioco mi sta piacendo parecchio. A questo punto ragazzi ditemi cosa ne pensate voi e ne discutiamo sotto nei commenti. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Continueranno a esserci altri video su Dragon's Dogma, qualcuno mi aveva chiesto delle guide, semplicemente se farò delle guide su qualche classe saranno le classiche sto giocando, quindi probabilmente Ladro sì, per altre vediamo. Non voglio mettermi a fare guide su cose che manco ho provato. Per il resto ragazzi ci aggiorniamo per altri video, comunque sempre sul gaming. Grazie per aver visto il video, grazie sempre per il supporto, statemi sempre bene, alla prossima. Ciao ciao!